buongiorno a tutti quanti eccoci scusate per la voce ma ieri è stata eh una eh chiacchierata immensa scusate finisco finisco il tè dicevo è stata una chiacchierata immensa tra la diretta ieri sera mh da Parabellum eh il Natale con gli addetti a lavori oltre ovviamente alle varie eh racconti di un anno eh insieme a eh parenti e eh annessi nel nel pranzofiume che è iniziato a luna e finito in tarda serata che diciamo che in qualche modo ne risente sia eh i bruciori di stomaco che mh la la qualità della della voce. Io ringrazio tutti coloro che anche il ventisei dicembre dopo magari averlo fatto già ieri ventiquattro ore fa sono presenti sempre alle alle sei e e quarantacinque mh anche oggi quindi ringrazio Aurora, Giuseppe, Ezio, Renato, eh Giuseppe C, Manuel novantasei che ci vedremo domani e quindi avremo modo anche di di conversare insieme ehm e aggiornarci delle varie attività che ci saranno attività molto molto interessanti mh per il duemila e ventiquattro di Mirco buongiorno ehm prima live mattutina che riesco a vedere e sono contento mi dispiace sempre la prima volta sappi che però è eh diciamo che crea assuefazione una volta che tu inizi a vedere le mie dirette la mattina poi non vorrai mai più smettere mh e quindi questo diciamo crea crea dipendenza ecco c'è bisogna specificarlo nella come la ludopatia e altri tipi di di forme di di dipendenza diciamo che ci dispiace per te sei entrato in questo eh in questo tunnel e sarà difficile eh uscirne ehm che saluto Gabriele Renzo quindi diciamo che siamo un nutrito procura eh sì procura assuefazione Aurora poi tu lo sei bene quindi diciamo che sei una affecionata eh non dico della prima ora però diciamo che si è diventata ormai eh tra le più tra le più eh attive tra le più eh contributrice eh della anzi hai hai contribuito anche con con dei libri quindi diciamo che mi hai mandato anche degli omaggi quindi in qualche modo cioè hai hai dato proprio un segno tangibile eh dell'affetto e della collaborazione con con il mio canale saluto ancora anche Alessandro eccoci qua siamo già quattordici eh ieri infatti facevo notare ad alcuni amici parenti eccetera come ieri eh già le sette alle sette di venticinque dicembre eh eravamo cioè eravate in ventiquattro e le persone si stupivano ma è possibile che alle sette del venticinque dicembre ci sono ventiquattro persone che coscientemente volontariamente ti ascoltano e ti vedono eh dico che devo fare cioè io 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 mi ci metto ci metto la faccia ci metto la sveglia e ci metto anche la voce quella poca che ciò poi se eh c'è un interesse c'è un riscontro non è colpa mia come diceva il maestro Yoda e no scusate non maestro maestro Obi-Wan Kenobi è più è più matto eh il matto o quello che lo seguo quindi in qualche modo è un po' così ehm a proposito di Marina ho comprato il libro Fascisti sul mare di Fabio Nenino merita come libro? Sì ma Fabio Nenino è un uno storico che conosco personalmente molto valido che ha fatto una ricostruzione molto dettagliata eh io appunto ce l'ho quel libro non l'ho non l'ho ricensito ma ma per distrazione non perché non lo volessi ricensire quindi magari cogliamo l'occasione anche per eh per 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 farlo cioè un libro sicuramente che vale vale molto ah c'è anche Metal Mike buonasera buongiorno e soprattutto buon Rodolfo sono appena tornato a casa ecco ho lasciato Mike ieri sera che stava andando a fare il DJ e lo ritroviamo oggi che ha appena finito quindi Mike diciamo che siamo sempre insieme anche con te in qualche modo eh saremo tanti di più Aurora io lo spero eh ciao Mike ti sei divertito? Vediamo eh mi viene mi viene in mente su questa su questa domanda e probabilmente vi attenderemo la risposta ma un po' la citazione del film ehm una cascata di diamanti il film del settantuno eh targato James Bond in cui è impegnato Bond in una serie di eh di attività tra cui la presunta morte di Blofeld ancora poi non si sa che non è morto e e c'è un un funzionario dello Stato che dice ah mister Bond eh signor Bond so comandante Bond so che è andato in vacanza e lui risponde poco riposo ma molte soddisfazioni quindi immagino che eh la risposta che possa eh darci Mike eh sia eh sia similare cioè ti sei divertito hai fatto un'attività cioè poco riposo ma molte soddisfazioni diciamo che conoscendo il buon Mike sicuramente darà una risposta similare a questa buongiorno Francesco quindi Lorenzo non so se l'avevo salutato ecco ci siamo in sedici la voce è eh proprio andata eh siamo in disastro devo comprare delle delle caramelle le ho finite cioè ne ho ne ho consumate in in quantità industriale in questi giorni allora iniziamo con la terza e a meno che la voce non mi abbandoni del tutto terza mh parte eh della lettura cioè la lettura di alcuni brani di questo di questo libro buongiorno Luigi ehm tramonto di una grande marina abbiamo avuto modo di ehm accennare di affrontare il tema eh di di Iachino all'interno delle decisioni militari politico operative eh sulla gestione sulla l'andamento dell'attività eh della marina italiana della legge marina all'interno delle dinamiche e degli equilibri eh della guerra nel Mediterraneo con tutta una serie di sfaccettature di analisi e di eh opportunità ehm giustamente si è divertito si è divertito Mike non ne avevamo dubbi non avevamo non avevamo dubbi e quindi entriamo in qualche modo anche a ehm ad esaminare altri aspetti altre vicissitudine altre mh altre prospettive e qui l'ultimo allegato che Iachino propone che ci eh evidenzia datato eh datato ehm dieci dieci febbraio milanocento quarantuno è un promemoria eh di supermarina promemoria numero trentuno per il convegno di Merano ecco il convegno di Merano che è mh è avvenuto ehm appunto nei giorni successivi eh tra i vertici della eh marina tedesca e i vertici della regia marina evidenziò una certa ehm insoddisfazione dell'ammiraglio Redor e delle ehm dei suoi collaboratori eh verso una presunta inattività operativa della regia marina sostanzialmente i tedeschi dicevano eh noi ci stiamo impegnando in maniera eh decisa eh nei contesti più disparati e e mentre voi non fate nulla senso la vostra unica attività è quella di scorta ai convogli di conseguenza realmente voi non state facendo nulla eh nell'ostruzione nella contrapposizione con la flotta eh britannica del Mediterraneo e da ehm da questa da questa questo convegno poi emergerà i presupposti per quella che sarà eh la battaglia eh di capo ma da panna quindi in qualche modo abbiamo anche un corrispettivo logico di quello che accadrà eh in maniera abbastanza rovinosa eh su delle prospettive appunto che diventano eh partono da esigenze di accontentare i tedeschi e quindi eh una eh prospettiva molto eh difficile molto ehm che dà un altro segnale eh di ehm di quello scivolamento verso la guerra eh subordinata che appunto tra la fine del mio 140 e l'inizio del mio 141 si profila come inevitabile ehm capo ma da panna ma come ha dormito dopo quella notte l'ammiraglio italiano eh chissà non 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 ho allora bisogna 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 cioè Iachino ha espresso tante opinioni non solo in questo libro ma anche negli altri in cui ovviamente affronta capo con Madapan questo lo lascio a voi nella ehm nella curiosità io mi limito a leggere i documenti a dargli un un commento e quindi poi in qualche modo poi ripeto ci sono stati c'è stato ehm la diretta il video di di Giulio eh di Italian Military Archives eh sul sul tema e quindi in qualche modo scusate un attimo eh Gattaroat ha fatto un casino qui ha ha buttato tutto eh lo so è qui Gattaroatta eh poi ieri l'abbiamo lasciata sola siamo usciti e gli abbiamo lasciato da mangiare per carità ma ha lasciato fatto un casino qui diciamo che attenzione attenzione tra l'altro ieri siamo andati a casa di di questi parenti di di miei cognati e avevano Gattoso io ho denominato Gattosoddu poi dopo magari ho fatto un video vediamo di potervelo proporre anche Gattosoddu con le sue caratteristiche che che con Mike che ben conosciamo ehm sì sì è Aurora eh Giulio ha fatto una bella live sul Capodonale quindi per per altri aspetti più nel dettaglio eh vi suggerisco eh di andare a recuperare quella quella live Gattaroatta un senso tutto su dell'ordine sì diciamo dopo dopo vi manderò questi short che ho fatto che veramente ha buttato tutto tutto per terra sì Gattosoddu un gatto molto con poca voglia di fare diciamo che è molto coccolone allora quindi dicevamo quindi ha legato quattro questo promemoria del dieci febbraio quarantuno per il convegno come ho detto di Merano ehm capitolo primo eh situazione geografico strategica paragrafo primo fino al mese di novembre milo centoquaranta la relativa geografico strategica la scusa la relatività geografico strategica fra l'Italia ed Inghilterra era rimasta in Mediterraneo sostanzialmente quella determinatasi dopo l'armistizio con la Francia eh questa situazione poteva considerarsi di massima favorevole in quanto le basi principali dell'avversario Gibilterra ed Alessandria situate alle estremità dei bacini del Mediterraneo per la loro stessa eccentricità non offrivano al nemico larghe possibilità di manovra nella zona focale del Mediterraneo centrale dove la situazione di Malta era sufficientemente neutralizzata per impedire che gli inglesi potessero servirsene come importante base operativa in queste condizioni permaneva inalterata l'importanza della posizione strategica del canale di Sicilia esso come elemento geografico di separazione fra il bacino orientale e quello occidentale del Mediterraneo concedeva alla nostra marina possibilità di manovra strategica anche quando il controllo del canale non potesse essere mantenuto in modo rigoroso e continuo quindi qui si va un po' a evidenziare il quadro generale capitolo eh paragrafo secondo nel novembre ultimo scorso la situazione geografico strategica in Mediterraneo è variata le forze navali e ed aeree inglesi hanno avuto infatti la possibilità di insediarsi a Creta eh nelle isole dell'Egeo e nelle numerose posizioni utilizzabili lungo le coste della Grecia la posizione del Dodecaneso eh la quale aveva già veduto ridotta la propria importanza per le difficoltà di rifornimento è risultata ulteriormente svalutata mentre si andava accrescendo la minaccia di un'azione offensiva diretta ad eliminarla e qui emerge sia il problema della notte di Taranto eh negli ultimi scampoli del quaranta ma anche la comple il completo isolamento delle isole italiane dell'Egeo il Dodecaneso eh a seguito eh della eh dell'inaspirsi della campagna eh di Grecia e delle del relativo impegno britannico a difendere la Grecia eh ma soprattutto il nemico ha potuto sottrarsi all'inferiorità geografico strategica alla quale lo condannava in Mediterraneo orientale da disponibilità della sola base eccentrica di Alessandria e ha avuto la possibilità di avvicinare le proprie offese aereo navali al Mediterraneo centrale e in particolare allo Ionio. Esso ha così acquistato notevole notevoli capacità potenziali sia contro le basi navali e aeree dell'Italia meridionale sia contro le linee militari di traffico del basso Adriadio. Quindi vi è una eh una invasione di campo anche nella parte centrale del Mediterraneo. Eh paragrafo terzo l'inizio dell' offensiva inglese contro la Libia e i suoi rapidi imprevisti sviluppi hanno già ora avvenuta occupazione della Cirenaica ha creato un ulteriore aggravamento nella situazione geografico strategica nel Mediterraneo. La base di Tobruk è venuta a mancare. Il nemico potrà disporre fra qualche tempo anche del porto di Bengasi. I due pilastri dell'accesso al Mediterraneo orientale sono in possesso delle forze navali ed aeree dell'avversario. Il Mediterraneo centrale nel quale finora il nemico disponeva solo del precario punto di appoggio di Malta è controllato dal suo bastione orientale e in parte da quello meridionale. Questa situazione oltre a di inibire praticamente qualsiasi seria minaccia offensiva da parte delle nostre forze aeree e navali contro le posizioni inglesi nel del Mediterraneo orientale sottopone al controllo navale e soprattutto aereo dell'Inghilterra in Mediterraneo centrale. Gravi sforzi saranno necessari per conservare un controllo seppure limitato del canale di Sicilia allo scopo di ostacolare per quanto possibile il libero uso di tale passaggio a vantaggio dei convogli di rifornimento e delle forze navali del nemico. Viste le boi siluranti dei sommergibili italiani non credo che gli inglesi abbiano fatto tanta fatica controllo del Mediterraneo centrale. Paragrafo quattro ma deve purtroppo essere prospettata l'eventualità che il nemico riesca ad estendere la propria occupazione anche alla Tripolitania cioè si vedeva già nero si prescinde per un momento dalle conseguenze politiche e militari di questo avvenimento nei riguardi dell'atteggiamento della Francia e del Nord Africa limitando l'esame alle ripercussioni dell'occupazione integrale della Libia sulla situazione geografico strategica e Mediterraneo appare che il completamento dell'occupazione delle sponde meridionali del Mediterraneo centrale porterà allo sboccamento del canale di Sicilia da parte dell'avversario quello che avverrà poi eh nel corso eh della del della del primo semestre del quaranta tre questi valendosi delle proprie posizioni della propria superiorità di mezzi navali daerei sarà sempre in grado di svolgere con ampia libertà d'azione sui traffici fra i bacini estremi del Mediterraneo per quanto intensi possano essere i nostri sforzi intesi ad ostacolargli il libero uso delle acque del canale di Sicilia salutiamo anche Niesus oggi ha fatto un po' tardi vabbè ma ci sta ci sta eh paragrafo cinque eh da quanto sopra risulta che in questi mesi di guerra la situazione geografico strategica dell'Italia in Mediterraneo ha subito un mutamento profondo passando dall'essere abbastanza favorevole a una condizione di netto sfavore la quale appare sensibilmente aggravata anche rispetto a quella esistente all'inizio della guerra quando il potenziale marittimo francese eh fiancheggiava quello britannico la profonda trasformazione della situazione geografico strategica in Mediterraneo è la conseguenza dell'avvenuto concentramento di tutti i mezzi di tutta la potenza offensiva dell'impero britannico contro l'impero coloniale italiano ancora giovane e non completamente preparato l'azione contro la Grecia era stata appunto iniziata con l'obiettivo di neutralizzare a priori gli effetti di questa gravissima incombente minaccia recuperando nella parte settentrionale del Mediterraneo orientale e nella parte orientale dello Ionio una aliquota di questa libertà d'azione che si paventava andasse perduta con le posizioni dell'Africa del Norte e come accadde e come accadeva nella migliore tradizione delle tragedie greche proprio quell'evento che tu ci metti tutta l'anima e corpo per evitare puntualmente proprio perché tu ci metti tutta l'anima e corpo per evitare accadrà senza senza scampo ehm solo la conquista delle coste greche e delle isole dell'Egeo compresa Creta potrà infatti ristabilire la situazione permettendo da un lato la ripresa delle azioni offensive contro il Mediterraneo orientale ed offrendo d'altro lato la possibilità di attaccare di fianco le linee di traffico mediterraneo del della Gran Bretagna minacciandole in tutto il tratto compreso fra la Sardegna e i loro punti di approdo paragrafo sei si è accennato alle possibili conseguenze politiche militari dell'occupazione integrale della Libia da parte dell'Inghilterra e della stabilità della scusa della stabilita contiguità territoriale fra le terre occupate dalle truppe inglesi e i territori francesi del Nord Africa quindi ovviamente si vedeva sempre più nero le ripercussioni militari di un mutato atteggiamento politico della Francia investono un duplice ordine di elementi posizioni strategiche e forze navali l'apporto di queste ultime date le larghissime concessioni concessioni fatte alla Francia dalla commissione d'armistizio contro le quali la marina italiana non ha mai mancato di sollevare le più fondate obiezioni e le più energiche proteste e assai notevole soprattutto nel campo delle forze siruranti e del naviglio subacqueo sarebbe veramente deplorevole che le potenze dell'asse dovessero trovarsi di nuovo di fronte a cospicui nuclei di forze navali riorganizzati e rimessi in efficienza con loro stesso consenso ma le ripercussioni più deplorevole e più esiziali sarebbero quelle derivanti dalla rinnovata disponibilità di posizioni geografiche come quelle dell'africa del nord della corsica il golfo di genova il tirreno sarebbero di nuovo gravemente minacciati e dovrebbero essere difesi con le forze aeree e navali di superficie e subacque sottratte ad altri settori il canale di sicilia sarebbe sotto il completo controllo nemico la pressione nemica sull'italia da levante opponente assumerebbe tale gravità da non poter essere più compensata neppure dal ristabilimento delle situazioni in Grecia e in Egeo conquistare le coste greche ignorando le dispersioni delle poche forze con la commissione del 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 CAI eh sì direi che è ovvio ma che cosa credevano che l'Inghilterra stesse con le mani in mano eh credevano che l'Inghilterra si arrendesse da questa la questione pensata a Roma paragrafo sette la concentrazione delle forze dei mezzi imperiali britannici contro le posizioni italiane in Africa ha annullato anche i vantaggi derivanti nel settore del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano dalla posizione di Massawa fiancheggiante le linee di traffico inglesi in Mar Rosso e dalla base oceanica di Chisimaio da tali posizioni era stato finora operato contro il nemico entro i limiti sconsentiti dalle poche forze leggere di superficie subacque disponibile con le restrizioni imposte dalle particolari condizioni climatiche l'offensiva inglese in atto contro l'Africa orientale italiana ha già obbligato a prevedere lo sgombero di Chisimaio e ha posto Massawa in una condizione di sicurezza molto precaria capitolo secondo economia bellica e linee di traffico paragrafo otto l'Italia nonostante la quasi totale cessazione dei suoi traffici marittimi internazionali ha conservato necessità di traffico che impegnano tutto il naviglio che si è trovato in Mediterraneo allo scoppio dell'ostilità e infatti a il movimento costiero sia in Tirreno che in Adriatico ha dovuto essere intensificato in relazione alla configurazione geografica della penisola e alla necessità di integrare il traffico longitudinale ferroviario già molto assorbito per altre ragioni. B l'importazione del carbone le scusate l'importazione del carbone e dei minerali della Sardegna crea una notevole corrente di navi attraverso il Mediterraneo. C le necessità militari e civili della Libia hanno dato origine a un'intensa corrente di traffici nei due sensi che si è svolta e si svolge senza interruzione lungo il canale di Sicilia e lungo le coste dell'Africa settentrionale italiana per una lunghezza fino a questi ultimi tempi di circa 1200 miglia. D le esigenze belliche in Albania hanno creato una nuova di imponente corrente di traffico la quale per quanto si svolga su tra su tragitto molto breve è molto onerosa ma tutti questi traffici non danno nessun apporto alla riserva di combustibili liquidi e di materie prime esistenti nel paese. La marina opera consumando le proprie scorte che non sono rilevanti e impongono limitazioni all'impiego delle forze. Paragrafo nove questa situazione di fatto ha prodotto due conseguenze a le esigenze del traffico hanno costretto ad aumentare gradatamente le entità dei servizi di scorta i quali dopo aver assorbito le unità mercantili armate previste per questo scopo e le torpediniere antiquate hanno richiesto successivamente l'impiego di torpediniere moderne e di caccia torpediniere delle squadre a detrimento di altri compiti di carattere militare. Quindi c'è la situazione logistica è talmente complessa che la marina viene assorbita prevalentemente per questo tipo di attività di supporto e di scorta. Quindi la parte più bellica in senso stretto è demandata a quando capita e quando si può fare. Ammassava pochi carci torpediniere ehm sommergibili danneggiata dal cloruro di metile che fece impazzire molti equipaggi ehm eh altrimenti ci si annoiava sì sì il discorso che in tutto questo garbugliamento eh attacchiamo pure la greca e la 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 bussia. Eh B alla marina inglese navi di superficie sommergibili forze aeree sono offerti numerosi ed importanti obiettivi di attacco dispersi su una zona molto estesa. Paragrafo dieci dal punto di vista dell'economia bellica la situazione inglese in Miterraneo si presenta come segue a la posizione principale dell'Egitto è stata finora rifornita essenzialmente via Mar Rosso. B fino all'inizio delle operazioni contro la Grecia l'Inghilterra aveva mantenuto qualche traffico assai limitato come entità fra Leggeo ed Alessandria con periodici piccoli convogli il cui trasferimento coincideva con la formazione a Malta di convogli secondari di pochi piroscafi formati sul posto ed era sempre protetto dal grosso della flotta britannica in mare. C non si erano fino al novembre 1140 praticamente verificati i passaggi attraverso i cani di Sicilia di convoglio di navi mercantili diretti dal Mediterraneo occidentale a quello orientale o viceversa. I pochi trasferimenti avvenuti si riferivano a unità militari protette da forti nule di corazzate dallevante e daponente. D l'apertura dell'ostilità con la Grecia ha prodotto la intensificazione dei traffici fra l'Egitto e l'Egeo appoggiandoli alle basi eventuali creati in Grecia e ha indotto l'Inghilterra a tentare il passaggio del canale di Sicilia da parte di importanti convogli di materiali e di truppe che sono stati localizzati da parte delle forze navali ed aeree di vigilanza alla zona del canale. E le operazioni in atto nell'Africa settentrionale hanno già creato una sensibile corrente di traffici costieri dall'Egitto verso Ponente per il rifornimento rapido sul mare delle truppe operanti. F è verosimile che la nuova situazione geografico strategica creata dall'occupazione parziale della Libia indurrà l'Inghilterra a trarre profitto dalle più favorevoli circostanze per dare uno sviluppo sempre maggiore al passaggio di convogli dal Mediterraneo occidentale a quello centrale ed orientale attraverso il cane di Sicilia. Tanto più che questo implica una fortissima economia nell'impiego del naviglio mercantile economia nella della quale certamente la Gran Bretagna sente la necessità. Undici concludendo nei riguardi dell'economia bellica la situazione in Mediterraneo appare alquanto diversa da quella esistente in Atlantico ove la Gran Bretagna offre il massimo degli obiettivi di carattere vitale mentre la Germania non ha linee di traffico imprescindibile. Qui l'Italia ha linee di traffico militarmente ed economicamente molto importanti mentre la Gran Bretagna aveva per lungo tempo praticato praticamente interrotto qualsiasi traffico. Solo recentemente sono state create correnti di movimento che andranno certamente sviluppandosi ma che non possono definirsi di carattere mercantile giacché per le loro stesse caratteristiche avranno sempre aspetto sussidiario militare e come tali saranno certamente coperte da operazioni in forza dei reparti maggiori britannici. Ricordiamoci la percentuale di naviglio mercantile verso il dieci giugno e questo ce lo ricordiamo ahimè. Tra queste una nave bloccata a Malta e un ordine di richiamata della flotta partito a maggio inoltrato mentre la guerra fu dichiarata a giugno. Abbiamo capitolo terzo relatività delle forze. Paragrafo dodici sempre trascurando il periodo iniziale del conflitto quando la Francia era ancora belligerante l'esame della relatività delle forze navali nelle sue diverse fasi porta alle seguenti conclusioni. A fin dall'inizio la flotta italiana ha assolto la sua prevista funzione di fissare per il fatto stesso della sua entità e della sua dislocazione un nucleo di forze avversarie di potenza assai superiore a quella propria. B per quanto riguarda le corazzate si può calcolare che la flotta italiana abbia sempre vincolato da sei a sette unità similari avversarie ossia praticamente tutte le corazzate efficiente efficienti delle delle classi world speed e una parte delle corazzate della classe resolution o degli incrociatori da battaglia. La relatività di forze in questo campo è passata da una inferiorità manifesta nei primi mesi quando vi erano solo due cavur e uno stato di progressivo equilibrio collegato alla crescente efficienza bellica dei due Littorio e dei due Duilio rotto in novembre per effetto della fortunata azione aeroscillorante inglese nel colfo di Taranto la quale ha eliminato tre delle nostre corazzate per un periodo di alcuni mesi. Tuttavia la marina inglese è sempre costretta a tenere immobilizzati due nuclei di forze una Gibilterra e una Alessandria ciascuno dei quali è commisurato alla necessità di affrontare da solo il combattimento con le nostre corazzate. C. La superiorità iniziale italiana nel campo degli incrociatori e meno marcatamente in quello dei cacciatori pediniere è andato graduatamente riducendosi perché la Gran Bretagna ha potuto grazie alla quasi completa smobilizzazione della stazione dell'estremo oriente e alla entrata in servizio di nuove unità rinforzare le sue forze leggere e sottili in mediterraneo quantitativamente e qualitativamente. D. Nel campo delle navi portaerei non si può purtroppo parlare di relatività delle forze ma solo constatare che da tre a quattro navi portaerei inglesi sono vincolate in maniera ormai permanente al mediterraneo e l'Italia non pervenuto. E per quanto si riferisce ai sommergibili è ben noto che la cessazione di qualsiasi traffico in mediterraneo le forme assunte dalla guerra in questo mare e la conseguente mancanza di obiettivi suscettibili di assorbire la massa del nostro naviglio subacqueo nonché la disponibilità di una base sulle coste francesi dell'Atlantico hanno portato alla decisione di inviare le unità oceaniche italiane in Atlantico lasciando in mediterraneo solo le unità antiquate e quelle moderne di minore dislocamento. I sommergibili inglesi impegnati in mediterraneo non sono stati in passato molto numerosi sono stati tuttavia necessari frequenti invii di nuove unità dalla madrepatria per effetto delle perdite relativamente elevate da essi subite undici accertate e tre quattro altre probabili. Di recente essi sono stati invece notevolmente aumentati. F in sintesi l'incremento delle forze inglesi in mediterraneo nei primi sei mesi del conflitto appare dal confronto fra i due specchi seguenti. Allora qui abbiamo situazione forze navali inglesi in mediterraneo, vabbè c'è tutto l'elenco senza che ve lo ve lo elenco c'è tutto un discorso tra mediterraneo occidentale e orientale tra situazione delle varie contrapposizioni comunque punto G le nostre perdite in tutti i teatri operativi con computando anche quelle per incidenti di navigazione e per altre cause sono state le seguenti ehm un incrociatore da cinquemila nove caccia torpediniere, quattro torpediniere moderne, tre torpediniere antiquate, ventidue sommergibili. La marina britannica ha subito le seguenti perdite accertate due tre incrociatori, sette caccia torpediniere, quattordici quindici sommergibili, tre navi da pattuglia. Rilevanti danni sono stati da noi inflitti a tre navi da battaglia, due navi portaerei, sei incrociatori, cinque caccia torpediniere e sette sommergibili. Paragrafo tredici forze aeree. Si fa menzione delle forze aeree soltanto in rapporto al loro impiego nella guerra marittima. Si deve constatare una netta inferiorità dell'aeronautica italiana nel campo aereo navale per le seguenti ragioni dipendenti da fattori che in parte che in gran parte sfuggono alle competenze della marina e qui emerge un abisso, un problema, un problema, uno dei problemi della seconda guerra mondiale, il fatto che non sia ci sia coordinazione tra aeronautica e marina e giustamente la marina dice non è colpa mia. L'aeronautica dirà non è colpa mia e la situazione è quella che è. A. Mancanza di aerei da ricognizione a grande raggio di azioni di azioni di tipo simile al Sunderland. B. Fortissima deficienza quantitativa e qualitativa della nostra aviazione da ricognizione marittima la quale è insufficiente alle necessità giornaliere e non è in grado di resistere agli apparecchi da caccia partenti dalle navi portaeree. C. Limitata efficienza offensiva dei reparti aerosiluranti nazionali in confronto con quelli nemici per quanto essi dispongano di migliori siluri. Il fatto deriva dall'essere i nostri reparti tutt'ora in corso di costituzione e addestramento. Interessante come siamo all'inizio del quarantuno e ancora non vi siano eh entità efficienti in campo aereo navale e siamo una potenza eravamo una potenza navale nel Mediterraneo quindi diciamo che dove essere una tra le priorità. Vabbè. Di impossibilità di poter fare sicuro assegnamento sulla aviazione da bombardamento per ragioni di carattere generale dipendenza assegnazione dei compiti e di carattere particolare difficoltà di riconoscimento adeguato munizionamento di caduta e qui non vorrei ci dare giusto così punta stilo così giusta per buttarla lì nel senso che gli aerei italiani arrivarono tardi a battaglia già conclusa e eh eh per erroro buttarono pure delle 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 bombe sopra alle navi italiane. Vabbè. E in idoneità dell'aviazione da caccia nazionale di operare in alto mare. Poi arrivavano tardi perché? Perché gli ordini partivano dalle navi e andavano a supermarina a Roma da supermarina arrivavano a superaereo sempre a Roma e da superaereo arrivavano ai comandi locali dell'aeronauta. Quindi in tutto questo giro del come si dice a Roma delle sette chiese gli aerei arrivano tardi. F mancanza di navi portaerei che consentano di controllare la versione da caccia e da bombardamento nemica come le navi portaerei nemiche controllano le nostre e di spingere la ricognizione nei settori estremi del Mediterraneo nelle acque delle basi nemiche. Tali deficienza si è aggravata con la perdita delle basi aeree della cirenaica. La venuta in Italia del decimo corpo aereo tedesco con il compito principale aereo aereo marittimo ha recato un sentito miglioramento alla situazione soprattutto soprattutto nei riguardi delle azioni di contrasto all'attività navale nemica. Rimane però ancora sentita la deficienza nel campo della ricognizione marittima. Capitolo quarto modalità di impiego delle forze navali. Paragrafo quattordici le modalità di impiego delle forze navali di superficie in Mediterraneo sono state determinate dai seguenti elementi i quali si sono venuti man mano appalesando e precisando. A esistono finora per noi scarsi e limitati obiettivi strategici per operazioni parziali. B il nemico inesplicabilmente non ha ancora compiuto operazioni di guerra di corsa contro le nostre linee di comunicazione le quali potrebbero infliggerci gravi perdite ma offrire il destro ad operazioni di contrattacco. C il nemico nelle sue uscite in mare dispone sempre di un nucleo di unità superiore alle forze italiane che potrebbero intervenire ne prova la cura con la quale prima di ogni sua uscita esegue esplorazioni su tutte le basi navali nazionali per dosare conseguentemente la entità dei propri reparti operanti. Quindici da quanto sovraesposto e dalle esperienze fatte risulta che ha i tentativi di eseguire azioni offensive nella sfera di azione dei nostri mezzi con reparti isolati di incrociatori di suluranti di massa sono sempre caduti nel vuoto perché normalmente non vi sono né piroscafi isolati o in convoglio né reparti nemici staccati. C quando tali tentativi non cadono nel vuoto è perché le forze navali nemiche sono tutte in movimento ed allora date le caratteristiche del teatro di operazioni non è possibile pensare ad azioni suscettibili di dare risultati concreti se non si è pronti e in grado di contrapporre il il grosso al grosso. C le modalità di impiego delle forze navali superfici mediterraneo sono quindi sensibilmente diverse se non opposte a quelle esistente nel teatro operativo atlantico come sono diverse le premesse strategiche. D è possibile che in un prossimo avvenire per le considerazioni già esposte si realizzino condizioni più favorevoli ad azioni offensive di riparti minori ma tale possibilità essendo la conseguenza della peggiorata situazione geografico strategica sarà controbilanciata nei suoi effetti dalla mutata situazione strategica. Una pressione costante sarà data invece dalla presenza attiva della flotta italiana la quale come ha fatto finora non tralascerà mai nessuna occasione in cui il nemico è in mare per uscire e cercare di impiegnarlo in condizioni favorevoli e si impone di essere realistici nella valutazione delle condizioni favorevoli per impiegnarsi già che se un eventuale successo sul grosso nemico avrebbe ripercussioni morali enormi ma effetti materiali relativamente limitati data la capacità del nemico di rimpiazzare le unità perdute con altre provenienti da altri settori e per la mancanza di effetti sul traffico marettimo un insuccesso delle forze navali italiane avrebbe le più gravi ripercussioni sulla situazione delle fronti operative terrestri oltre mare che potrebbero rimanere tagliate fuori dalla madre patria con tutte le conseguenze e qui una sorta di di previsione F ad ogni modo la premessa fondamentale per poter impegnare le parti nemici in condizioni favorevoli è quella di poter conoscere sempre con sicurezza e con continuità la loro posizione la loro potenza i loro movimenti il che allo stato attuale delle cose non è ottenibile senza radar senza eh sistemi alternativi senza un'adeguata ehm aviazione navale senza i sistemi di 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 decretazione che gli inglesi avevano diciamo qua si spara sulla croce rossa G è necessario inoltre mantenere sempre attivo e in efficienza il controllo del canale di Sicilia per conservare integra la compartimentazione del medierraneo e per rendere sempre rischioso il transito attraverso il canale stesso questa necessità è molto contrastata dall'assorbimento di unità sottili per i servizi di scorta non riesce facile trovare una soddisfazione una soddisfacente soluzione del problema H per quanto si riferisce al naviglio subacqueo si è riscontrato che nel medierraneo per la chiarezza delle acque e dell'atmosfera per le dimensioni del teatro operativo che ne permettono il controllo aereo in maniera persistente e completa per la superità aerea dell'avversario per le possibilità offerte alla ricerca metodica e alla caccia da parte delle siluranti appositamente attrezzate l'impiego offensivo diurno del sommergibile contro formazioni navali generalmente scortate non dà un rendimento proporzionato al rischio l'azione subacquea è nel medierraneo impostata sull'impiego notturno il quale peraltro offre buone prospettive di successo soltanto nelle zone di passaggio obbligato e quando il nemico vi transia e sappiamo come anche sull'addestramento ehm delle unità di superficie eh la l'attività eh notturna era ehm quasi del tutto esclusa eh capitolo cinque che è l'ultimo no scusate il penultimo la flotta italiana potrà continuare ad assolvere come in passato il compio di vincolare nel medierraneo importanti forze navali nemiche anche nell'ipotesi più sfavorevole di perdita totale della Libia in questa eventualità oltre ad assicurare le comunicazioni con l'Albania e lungo le coste nazionali essa potrà agire offensivamente contro il traffico inglese transmedierraneo e contro le forze navali destinate a difenderlo se la Tripolitania potrà essere conservata l'obiettivo di difendere le comunicazioni di questa con la madrepatria presenterà difficoltà non lievi perché contro di esse potranno agire forze navali ed aeree appoggiate alla Cirenaica e perché il porto di Tripoli potrà essere sottoposto a frequenti attacchi aerei si capisce bene se si augura della perdita totale della della Libia o del mantenimento della Tripolitania che sembra da come da come detto mi mi pare che eh sia più rischioso mantenere la Tripolitania. Alla sicurezza delle comunicazioni con l'Albania è legata alla possibilità di una vittoria sulla Grecia compensando con la conquista di basi greche eh la perdita delle opposizioni libiche e rivalutando il Dodecaneso. Comunque sia per non venire meno alle sue funzioni la flotta italiana ha bisogno di a riprendere in sicurezza la sua dislocazione nelle sue principali basi operative Taranto Augusta Messina Napoli con reparti leggeri permanentemente o saltoriamente dislocati a Palermo, Trapani e Cagliari. B. Controllare con l'aviazione i movimenti del nemico in porto e mare. La dislocazione della flotta nelle basi medionali è tanto più necessaria in quanto che con la perdita della Cirenaica è diminuita notevolmente la possibilità di controllo dei movimenti delle forze nemiche durante la loro marcia d'Alessandria verso Ponente e perciò il tempestivo intervento non può essere ottenuto che avvicinando le navi alle linee di operazioni avversarie. La base meglio ubicata sarebbe Augusta ma la sua vicinanza a Malta ne vieta l'utilizzazione per il grosso delle forze finché Malta non sarà efficacemente neutralizzata. Quanto più la flotta italiana manterrà capacità operative tanto minore sarà sugli oceani la disponibilità di forze inglese inglesi. e da ultimo capitolo sesto necessità di concorso da parte della Germania un po' il tasto dolente croce delizia speriamo che i tedeschi ci aiutino però i tedeschi non fanno niente gratis aperta e chiusa parentesi mia affinché le attività sopra menzionate possano essere esplicate con un grado di intensità che ne assicuri la efficacia è necessaria la cooperazione alleata per sopperire alle deficienze cui non è possibile far fronte con le risorse della nazione. Deficienze che da quanto si è esposto risultano essenzialmente di mezzi contraerei per la difesa delle basi, di mezzi aerei per la vigilanza sul Mediterraneo, di combustibili liquidi e di materie prime e semilavorati per le nuove costruzioni. L'ausilio in questione risulta nel del seguente ordine di grandezza a mezzi contraerei sono in costruzione presso l'industria nazionale numerose artiglierie e mitragliere contraeree, la loro produzione è però lenta per vari motivi, occorrerebbe poter disporre al più presto anche in gestione temporanea di circa 25 batterie contraeree, di circa 100 mitragliere contraeree di calibro non inferiore ai 20 mm per assicurare la difesa delle basi. Occorrerebbero inoltre mezzi di ascoltazione aereofonica, stazioni fotoelettriche e centrali di tiro per le armi stesse. B, idrovolanti da ricognizione a grande raggio per assicurare la vigilanza a largo delle basi nemiche e sulle rotte di più probabile transio in Mediterraneo. Si ritiene necessaria una disponibilità di circa 50 apparecchi per tener conto dei turni e delle riparazioni. C, combustibili liquidi, il consumo mensile di nafta della marina da guerra italiana, pur tenendo conto delle rigide economie imposte, si aggira sulle centomila tonnellate. Le riserve sono modeste. Questo è un altro problema enorme sul fatto che le attività che potevano in qualche modo tendere a mostrare un tentativo di offensiva erano sempre legate alla giornata stessa, dalla mattina alla sera, nel senso che per una questione di incapacità di affrontare uno scontro notturno. B, nella impossibilità di poter avvantaggiarsi di adeguate scorte di nafta che garantissero una un'esplorazione, un'attività a largo continuativo, comportavano ovviamente grandi rischi e un dispendio di risorse. Occorre pertanto aumentare al massimo la quota di combustibili che l'Italia già riceve dalla Romania e che viene ora utilizzata esclusivamente ai fini civili e dell'esercito e qui c'è un po' anche una bottonata a le altre amministrazioni dello Stato. Di materie prime e semilavorati, gli elementi relativi a queste richieste formano oggetto di comunicazione a parte. La Marina Italiana sa che l'accoglimento di queste richieste che concordano in massima, con quelle già presentate al confegno di Friedrich Schaffen, esula dalla diretta competenza dell'Ober Commando, ma essa lo prega ancora una volta di intervenire perché è conscia della pratica impossibilità di assolvere bene la sua funzione così importante nel quadro generale della guerra se non possa disporre di tutti i mezzi che le sono necessari. Allora, in questa sorta di maratona nella la lettura di questo importante documento che in qualche modo ci evidenzia tutti i limiti, tutte le difficoltà, tutte le anche desideri di trovare una soluzione la più praticabile possibile all'interno di scenari non rosei affatto, ecco diciamo che questo è un senso di comprensione di quello che sarebbe avvenuto poi nei mesi a seguire appunto capo ma da panna in primis nelle settimane eh in avvenire. Allora qui ci sono stati tanti tanti commenti io cercherò di essere particolarmente rapido anche perché la mia voce tende a essere sempre più affievolita. ehm la capacità inglese per organizzata quella sì qui giustamente c'è fortunata missione di Taranto cioè neanche la eh diciamo i i successi inglesi vengono definiti fortunosi quindi questo ci 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 è anche un po' sintomatico eh della dell'onestà intellettuale. Sì infatti insomma vinciamo dappertutto ma perdiamo la guerra nel senso che l'operazione è riuscita ma il paziente è morto. Ehm allora sì e pensare che avevamo che noi avevamo una marina migliore della Kriegsmarine ehm avevamo eh ammiragli da modellini navali ed eco e idee costruttive navali buone per le parate. Ehm e poi via se ci fosse una ipotesi in ipotesi eh così fantasiosa. Ehm vabbè c'è anche Mirko Mirko Zomparelli che c'è alle sette e ventidue del ventisei stai cucinando immagino non so tu cucini a a a a a oltranza diciamo a oltranza salutiamo anche Mirko ehm come siamo bravi a scrivere eh diciamo che c'è un grosso eloquio ehm stiamo con le mazzate addosso e sulla carta va tutto bene. Sulla carta anche Expo 2015 a Milano era meraviglioso poi Grozza ha tolto il cerone eh eh quando sento parlare di nafta mi viene in mente il petrolio libico e il tentito di balbo di sfruttarlo. Allora. Niesus chiedo scusa per i tardo messo la sveglia ma mi sono addormentato ma nessuno potrà dire che Niesu non sia stato fedele ma non lo abbiamo mai detto no Niesus tu sei sei eh come si dice lo riconosce anche mia moglie che quando faccio i saluti dice ma Niesu ci sta sempre ma non c'ha una vita no a parte scherzo sto scherzando no a parte scherzi è una vita anche a seguire le mie dirette quindi diciamo in qualche modo ehm eh diciamo che ehm rispetto ad altre cose ehm Balbo era governatore ma nessuno pensò a sfruttare il petrolio libico solo pensava di uno sviluppo agricolo eh cioè c'è il concetto un po' un po' retro un po' retro della politica italiana non dimentichiamo non dimentichiamoci che Redero e Deniz erano messi sotto dal baffino eh di Berlino e chissà cosa avrebbero fatto il mascellone di Roma ad ufficiali competenti così e non 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 ce lo immaginiamo non non vogliamo eh produrre ipotesi così così ardite allora io siamo arrivati a cinquanta minuti eh dalla dall'inizio di questa diretta che appunto ha completamente messo a a a dura prova la mia voce chissà come ma il video di domani è già pronto vi assicuro che è già registrato sarà una una recensione spero vi piacerà di un film non di argomento bel cioè di argomento militare in un parte eh argomento storico e quindi diciamo che domani siamo sicuramente appoggiati c'è sicuramente già la il video che era quello che devo fare oggi poi l'ho rinviato a domani ma è già eh ma è già ehm ehm è già pronto mi suggeriscono qui dalla regia e quindi allora eh io come al solito eh vi ringrazio vi ringrazio eh vi ehm invito a mettere mi piace come al solito a iscrivervi al canale a diffondere in giro eh la eh il desiderio di iscrivervi al canale di comprare i miei libri cioè chi più ne ha più ne metta cioè sostenete in ogni forma eh il sostegno appunto eh sostenere il sostegno vabbè sostenere l'attività che svolgo anche con questa voce che ahimè mi sta abbandonando speriamo oggi di riuscire a parlare meno mi sembra un po' difficile conoscendo i conoscendo me stesso ma cercheremo di fare qualcosa allora eh mi raccomando buona giornata buon ventisei auguri a tutti quelli che si chiamano Stefano Stefania e chi più ne ha più ne metta mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima domani con questa recensione di un film e eh saluto tutti quanti e da dal primo all'ultimo e anche coloro che vedranno il video in differita e mi raccomando mangiate 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 e ascoltate i video miei ciao a tutti buona giornata grazie a tutti